Sarkis e Ahmad, stessa passione per un unico mestiere, fare lo chef. Ingredienti e culture diverse. Armeno, ma ormai israeliano il primo, arabo-palestinese il secondo. Terre in guerra per dissidi, quasi secolari ormai, che però qui a Castel del Monte e Andria passano in secondo piano, perché uniranno saperi, tradizioni, ricette, per mettere su un menù che ha un solo obiettivo, chiedere la pace. Si chiama Taste of Peace Jerusalem, la manifestazione con cuochi palestinesi, israeliani e italiani che in cucina insieme per una cena accompagnata da un concerto e preceduta da un momento di preghiera per chiedere che in Medio Oriente le armi facciano finalmente silenzio. E far parte della stessa brigata vuol dire far intendere che si può stare uno accanto all'altro in armonia e gioia, anche se si hanno fedi religiose differenti. Lo dimostrano i piatti che sono preparati e serviti per la cena. Preparerò due pietanze, il primo è un piatto palestinese, il rigaio di un agnello con insalata araba e riso. L'idea non è quella di apparire un piatto importante, ma che attraverso questa semplice ricetta si possa riempire lo stomaco di ognuno. Il secondo piatto è un dessert che è tratto dalla Torah. Allora è un piatto che viene dalla Torah e quindi è benedetto e sono datteri con mandorle e altre spezie. Attraverso l'ottopzione di questi piatti riusciremo a mettere insieme le persone e a augurarci ovviamente la pace. It is blessed. Il cibo diventa così una strada per ritrovare le modalità di una convivenza pacifica. Mettere insieme le persone, perché la cucina, i cuochi non hanno frontiere. La cucina rispetta un po' tutte le culture, noi diciamo gender, non abbiamo discriminità, discriminazione tra razze e religioni. La cena è un'occasione per chiedere a gran voce che le ostilità in Medio Oriente possano finalmente finire. Creare una festa di pace, una cena di pace che ci vedrà non solo nel discorso del cibo che stiamo portando avanti veramente con un impegno. Io nella mia vita non avevo mai profuso tanto impegno e soprattutto vedere, e questa è la cosa che più è commovente, che chiunque è stato chiamato per partecipare a questo evento ha accettato senza battere ciglio. Riteniamo che la guerra è proprio in termini un'aberrazione e riteniamo che l'unico elemento che possa davvero dirimere le situazioni e quindi far parlare, far mettere insieme le popolazioni è la diplomazia, è l'unica arma che conosciamo.